Si è tornato in Consiglio Comunale a parlare delle strade del vino. C'era già una mozione e l'opposizione, essenzialmente il PD, ha provato a riavvicinare le parti. La mancanza di finanziamento, l'uscita dalle strade del vino dopo molti anni da parte dell'amministrazione Surdi, aveva infatti creato non poche polemiche. Fai una precisazione importante. Per quanto riguarda la strade del vino, l'amministrazione ha detto una cosa molto chiara. Noi non siamo contrari allo sviluppo del territorio, né alle imprese agricole che si occupano di vino. Semplicemente con i soldi degli Alcamesi non si possono dare 15.000 euro ogni anno, a prescindere se l'associazione fa o meno attività. Non ce la siamo sentita e per questo abbiamo detto che valuteremo tutti i progetti a uno a uno e se sono portatori di sviluppo per il territorio e le imprese, ben venga. Ora si attenderanno ovviamente le proposte dell'amministrazione Surdi. Nelle ultime due discussioni essenzialmente per la mancanza di finanziamenti sia le strade del vino che il torneo di calcio giovanile Costa Gaia ha creato qualche dissidio e forse anche qualche mancanza di comunicazione tra le due parti. Si vedrà in futuro come andrà. L'assessore Di Giovanni voleva parlare appunto dei suoi programmi per quanto riguarda le sue deleghe. Il Presidente del Consiglio ha ritenuto di non darle la parola perché se non ha già fatti due interventi e quindi anche per capacità di sintesi. Allora in futuro che succederà? Voi rincontrerete le strade del vino? Noi rincontriamo tutte le associazioni, tutte le imprese. Chiaramente tutti i progetti che avranno uno sviluppo per il territorio e per le imprese noi saremo favorevoli anche a mettere cifre maggiori anche dai 15.000 euro. Noi amiamo i contenuti, non i contenitori e questo è importante dirlo. Si è fatto finalmente un cambio di rotta drastico. Lei che area ha sentito ieri in Consiglio? Molti consiglieri comunali di alcuni movimenti hanno preso delle posizioni un po' contrarie a quelle che dicevano in campagna elettorale, che è scritto nel loro programma. Capisco che è anche il gioco dell'opposizione, però chiaramente alcune dichiarazioni le ho trovate assolutamente ridicole e fuori luogo.